Dylan Dog 425, i predatori. In questo numero più che mai Dylan si troverà ad affrontare qualcosa che è davvero orrorifico e che non lascia spazio alla metafora, ovvero la realtà. Wabalabadabdabe, bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica fumetti, nella rubrica Dylan Dog, nella rubrica serie regolare di Dylan Dog. Come potete sapere, se seguite il mio canale, negli ultimi ormai due o tre numeri, quindi due o tre mesi, non mi sta entusiasmando assolutamente Dylan Dog. Ero molto impaurito dal titolo che avevo letto nella terza di copertina il mese scorso, perché si capiva dove poteva andare a parare la storia. E infatti va proprio a parare lì, va a parare su un tema che tratta in modo quasi didascalico. Quindi la mia paura era quella appunto che, come nel numero scorso dove hanno trattato in modo didascalico il discorso della tecnologia imperante, del fatto che non sia più una vera scelta, una vera privacy, temevo che anche qui facessero lo stesso errore. E invece devo dire che tutto sommato, nonostante il numero sia comunque molto didascalico, il numero mi è piaciuto. Prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace, o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega di condividere il video con tutte le persone che ci tengono a parlare di un argomento come quello della migrazione e dello sfruttamento anche di queste realtà, di queste realtà disperate, e di commentare qui sotto con quello che viene parso di questo numero e di questo video. Vi ricordo sempre di seguirmi anche sugli altri miei social, tra cui Instagram e Twitch, dove probabilmente farò anche una live, non una live intera, ma in una delle prossime live vorrò magari anche guardare insieme la recensione degli altri youtuber, degli altri influencer di settore che parlano di questo numero e approfondire magari un pochino di più insieme a voi. Quindi se anche voi siete in chat, ne parliamo meglio insieme. Invece l'ultima nota tecnica, anche questo video lo sto registrando dalla webcam, quindi scusate se la qualità è inferiore rispetto al solito, però poteva andare peggio, potevo non portare contenuti e lamentarmi degli altri youtuber, no? E invece quantomeno un po' di contenuto c'è, quindi stringete i denti sulla qualità che dal prossimo video dovrebbe ritornare alta. Come detto all'inizio e come detto negli altri video, sugli altri numeri, ero davvero col morale sottoterra, ero davvero demoralizzato, non avevo quasi voglia di leggerlo, fondamentalmente uno di quei numeri che diceva vabbè lo leggo perché ho il canale, ne voglio parlare, però davvero ero stanco di vedere numeri di Dylan Dogg che non mi prendevano, ed ero così stanco che quasi non avrei nemmeno letto l'introduzione, io lo chiamo l'editoriale, di Roberto Recchioni. Fortunatamente invece l'ho letto e nonostante una prima titupanza, perché questa volta il RTF è l'editore tagliaforte, la citazione non l'ho capita, quindi probabilmente è di un film che io non ho visto. Nonostante questo devo dire che l'introduzione di Recchioni invece è stato un valore aggiunto perché mi ha aiutato ancora di più a immergermi in questa storia. Dalla storia ho capito che c'era, appunto, dietro tutto questo a livello autoriale c'era Gabriella Contu, che devo dire ha un percorso con me che non mi è sempre piaciuto, l'ho rivalutata di recente con Alba Chiara, in Alba Chiara mi è piaciuto il suo racconto, invece sull'Old Boy assolutamente l'ultima storia che ho letto della Contu sull'Old Boy non mi era piaciuta, e quindi ero un pochino così, ero un po' titubante già appunto sapendo che gli ultimi numeri non mi erano piaciuti. Invece devo dire che sono rimasto molto stupito, ho trovato questo stile della Contu, l'avevo trovato anche in un'altra vecchia storia dell'Old Boy che invece mi aveva colpito particolarmente, quella ambientata appunto in Sardegna, adesso non mi ricordo quale fosse, ma quella storia mi era piaciuta molto. Quindi ho ritrovato questa Gabriella Contu e ne sono molto felice. I disegni di Caluri li ho trovati davvero perfetti per questa storia, mi piacciono un sacco le tavole sotto la pioggia, la pioggia che si infrange sul vetro del maggiolone di Dilan Dog, questo Dilan Dog con un cappello molto ordinato, devo dire un cappello quasi corto per Dilan Dog, che lo rende anche più giovane del solito. Molte tavole prive di Balloon che lasciano spazio proprio a una scorrevolezza tipica recchioniana alla serie TV, e quindi appunto non come i vecchi numeri di Dilan Dog dove i Balloon riempivano un sacco, la storia era una storia più da libero, qua invece siamo più su una sceneggiatura di una serie TV, quindi è una storia che si legge molto in modo molto più veloce, è una storia che vi ruba mezz'ora e non un'ora come magari i primi cento, ma ciò non toglie valore alla storia di per sé. Tornando ai disegni mi sono piaciuti davvero molto le parti della savana, in cui mostrano appunto gli animali, la lotta, la ribellione degli erbivori contro i predatori, mi sono anche piaciuti proprio come hanno disegnato invece per quanto riguarda l'ambientazione metropolitana, ma anche la parte in cui i migranti tentavano appunto di passare il mare, come hanno disegnato con il chiaro scuro le persone di colore, come hanno disegnato in modo molto sexy il personaggio femminile che si chiama She-Ra, mi è piaciuto molto come lo hanno disegnato, è davvero molto sensuale, trasmette molta sensualità, mi piace che all'inizio Dylan Dogg non batta chiodo, anzi che lei lo respinga, però poi ci finiscono a letto. Ecco, questa è una cosa che ho trovato un po' scontata da parte di Dylan Dogg, piuttosto io Dylan Dogg lo avrei fatto, non lo so, infatuare invece della proprietaria del centro per rifugiati, sarebbe stata un po' una cosa un po' diversa, invece va con la sexy bomb di turno. Ho anche trovato un graucio perfetto, nel senso che non fa battute, perché ci mostra quanto la situazione sia reale, quanto la situazione sia seria, e le uniche battute che spreca sono battute sferzanti, sprezzanti, verso le persone che commettono queste cose. Questo è il graucio che io voglio vedere, un graucio che non parla a vanvera, se non per stemperare la tensione, ma un graucio che è sul pezzo, sulla storia. Torno un attimo all'editoriale di Recchioni, poi torniamo appunto sulla storia di per sé, mi è piaciuto molto che Recchioni che consiglia sempre delle canzoni per accompagnare la lettura, cosa che io non faccio perché ho bisogno del silenzio assoluto, ma magari le ascolto in un secondo momento, abbia suggerito proprio dei gruppi, sempre sullo stile che piace a Recchioni, e che parzialmente condivido, di origine africana. Gruppi kenyoti, gruppi ivoriani, forse anche gruppi del bozzuana, quindi Recchioni sul pezzissimo per questa storia, e l'ho apprezzato davvero tanto. La storia di per sé si apre in un modo molto lento, con una, diciamo, una descrizione di quello che vediamo, di quello che sostanzialmente è un atto predatorio nella savana africana da parte di un leone, che appunto è il predatore che è anche in copertina, e viene narrata, narrata da qualcuno che noi non sappiamo chi è, inizialmente, quasi fino alla fine, si suppone sia il predatore stesso a parlare in prima persona, tant'è che lo possiamo immaginare anche per il fatto che nel momento in cui cambia l'inquadratura, scusatemi il termine filmico, nel momento in cui cambia l'inquadratura, si passa dall'inquadrare il leone a inquadrare, diciamo, io lo chiamo lo scafista, anche se in realtà lui resta sulla terraferma, si inquadra questa persona, che è poi il predatore umano di questa storia. Questa didascalia iniziale ha anche alcune rime, e mi ha ricordato e mi ha riportato alla mente le prime rime che Tiziano Sclavi usava nei suoi Dylan Dog, e dove ci sono le rime, di solito, è una poesia verso un personaggio, un personaggio che viene visto solo alla fine. Quindi ho apprezzato anche tantissimo questo omaggio a come scriveva Tiziano Sclavi, come introduceva alcuni vecchi numeri Tiziano Sclavi, quindi se qualcuno dice che questo numero non è come i vecchi numeri di Dylan Dog, forse dovrebbe rileggerseli. Poi, come sapete, io l'ho già manifestato in altri miei video, quando Dylan Dog tocca un tema scottante, un tema attuale, un tema che fa parlare di sé è quello che, secondo me, è il vero Dylan Dog. Poi sì, qua magari non lo fa in modo rivoluzionario, nel senso la storia va esattamente dove pensiamo che vada, ma è comunque bello che tocchi un tema del genere. Vorrei che lo facesse più spesso, vorrei che Dylan Dog prendesse il coraggio a piene mani che aveva, o che pensiamo tutti, che avesse negli anni 90, o forse che finalmente prende il coraggio adesso per parlare di cose scottanti, di temi che sono davvero orrorifici. Poi ecco, possono farlo comunque mettendoci anche un po' più di sovrannaturale rispetto a qua, qua l'elemento sovrannaturale è minimo, però comunque l'ho apprezzato. In questa storia probabilmente lo avrei gradito anche se fosse stato maggiore, però ecco, ma avrebbe magari confuso altri tipi di lettori, quindi ci sta che una storia così sia più terra-terra possibile. Forse anche per farci capire che non c'è nulla di diabolico, non c'è nulla di satanico, non c'è nulla di demoniaco nel male che alberga nel cuore dell'antagonista, dico antagonista per non fare spoiler, ma magari già l'avete letto, ma è tutto frutto della crudeltà umana. Prima ho parlato di come sono stati disegnati i personaggi, adesso vorrei parlare anche di tavole di impostazione grafica. Finalmente si esce un po' da uno schema vecchio, si spazia tantissimo, ci sono delle tavole regolari, ma ci sono anche delle splash page di questo tipo che sono spettacolari. Il numero non è privo di difetti, il difetto più importante è proprio come parte la trama, un po' un difetto alla No Way Home, cioè la trama c'è per un pretesto narrativo che viene messo in piedi dallo scrittore e poi va tutto di conseguenza, ma l'incipit iniziale non ha molto senso. Il fatto stesso che la persona che ingaggia Dylan Dogg fondamentalmente sia il villain della storia non ha senso, nel senso che allora perché lo ha ingaggiato? Sembra quasi che se la zanzara, questo il nomignolo del villain di questa storia, non avesse ingaggiato Dylan Dogg, alla fine non si sarebbe tirato la zappa sui piedi, per questo dico che sembra un po' forzato, o comunque, peggio ancora per noi lettori di Dylan Dogg, sarebbe comunque successo perché stava venendo pedinato da un altro investigatore privato. E qua chiudo il cerchio della narrazione iniziale, della didascalia iniziale, perché la didascalia iniziale sembra un racconto in prima persona dal punto di vista del predatore, poi c'è il secondo atto dove c'è il punto di vista, sembra che il punto di vista si ribalti, sia quello della preda che si ribella, e infine no, il punto di vista di tutta questa storia è quello dello sciacallo, che è personificato come il secondo investigatore privato, che tra l'altro, a cui viene anche fatta la morale da parte di Dylan, sul fatto che lui ha preso i soldi dalle vittime della zanzara, quindi ha lucrato sulle vittime della zanzara per fondamentalmente ammazzare la zanzara, quindi gli ha fatto un po' la morale, e lo sciacallo in questione fa capire a Dylan che fondamentalmente è anche quello che fa lui, cioè ci deve essere qualcuno nel mondo che toglie di mezzo le carogne, e questo qualcuno è lo sciacallo in questo caso. Alla fine del racconto, il punto di vista nella natura, diciamo, oltre allo sciacallo, questa didascalia che accompagna tutto il numero viene appunto narrata dalla morte, che è uno dei personaggi principali di Dylan Dog, a cui spesso viene associata queste filastrocche, a queste poesie sclaviane. La famosa livella di Totò come se la morte sia un po' la fine, la giusta punizione e la giusta pace per chi ha commesso certe cose e chi le ha subite. Un altro difetto invece che ho trovato mentre leggevo questa storia, quindi a storia conclusa non mi interessa più, ma mentre leggo questa storia, mi sono reso conto di essere stato coinvolto nella medesima, nella storia, a pagina 64, di un numero di 96 pagine, fino a pagina 64, la storia io l'ho sentita molto documentaristica, cioè sembrava proprio un documentario su quello che succede ai migranti quando sono dall'altra parte della traversata, perché appunto questa storia non parla di quello che succede quando arrivano in Italia, che comunque è una merda, ma fanno vedere quanto sia peggio di là e quanto questo li spinga a venire di qua. Però ecco, l'ho sentita molto documentaristica, nonostante si sia cercato comunque di coinvolgere le persone in prima linea per dare più un senso di storia e non di docufilm, ma dal momento che il punto di vista stesso è quasi per la maggior parte quello della zanzara, quello del villain, ti dà proprio quest'idea di documentario. Poi da pagina 64 in poi, quindi quando viene introdotta la figura femminile, i ricordi della madre, eccetera, allora la storia prende già più una piega coinvolgente, ma all'inizio ho un po' faticato perché era davvero troppo seria. Cioè io amo che l'argomento sia così serio, ma era stato trattato in modo molto serio e poco sentimentale, poco personale, poco coinvolgente. Dal momento che già parla di cose che, purtroppo è brutto da dire, ma dato che già parla di cose che succedono dall'altra parte del mare è ancora più difficile coinvolgere, no, magari il lettore se non gli si dà un taglio molto più personale. Quindi qua davvero per 60 pagine ho avuto l'idea di leggere un trattato di attualità, un trattato di storia moderna e poi si ingrana. Ecco, questo è l'altro unico difetto che trovo questa storia. Ultima nota, dato che io non parlo mai delle, diciamo, della confezione, ma dato che i Cestaro Brothers hanno iniziato da poco a essere i copertinisti, magari ogni tanto ci tengo a farvi vedere le cose. Ecco, mi piace molto questo Dilan Dog dei Cestaro Brothers. Come è stato disegnato? Una copertina insolitamente su tinte arancioni-gialle per darci proprio l'idea dei colori caldi dell'Africa, di un'alba o di un tramonto, in questo caso credo sia un'alba africana. E Dilan che viene attaccato da questo leone, tra l'altro mi ricorda un omaggio a una vecchia copertina dove Dilan viene attaccato da una tigre. Scrivetemi qua sotto nei commenti se vi ricordate come si chiama quel numero. È uno dei primi 100, forse anche uno dei primi 60, però non mi ricordo bene dov'è. Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. Come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video che sarà sicuramente su Samuel Sterna e alla prossima live dove faremo la reaction dei video degli altri su Twitch. Arrivederci.